E' uscito prima questo che è il riassunto di Tiamese Digital Circus Al faioli mio padre eh Però prima di aspettare a ottobre per l'episodio Ghost Fuckers Andiamo a vedere la trama del tour delle scuse E come andrà la Stolitz dopo gli eventi di The Full Moon? Beh, scopriamolo Però prima, sponsor Hai un account Discord e sei un appassionato di Aspen Hotel e Lua Boss Ma non trovi nessun utente Discord per parlare della tua serie animata preferita? Non ti preoccupare Esiste un server Discord italiano di Aspen Hotel e Lua Boss Il server si chiama te Aspen Hotel Pride Ring e Lua Boss E' un server Discord italiano E in questo server puoi parlare o chattare con altri utenti che parlano di Aspen Hotel e Lua Boss Ma non solo Puoi pubblicare le tue fanart, meme, fare teorie con molti utenti E stare aggiornati sulle prossime novità Per esempio sull'uscita della seconda stagione di Aspen Hotel Poi puoi sapere qualche curiosità su qualche personaggio cliccando il personaggio in questione E infine puoi fare roleplay nel server Discord In chat puoi utilizzare molti emoji a tema Ed esiste anche il canale di Instagram dove i nostri personaggi preferiti si fanno delle foto Come questo bellissimo lucifero Guarda quanto è bello e figo Esiste anche un canale di sondaggi dalla serie Chi è il personaggio più odiato nella serie? Minzi o Susan? Esiste anche il bot della musica dove potete ascoltare le canzoni tipo Tu fai schifo baby che schifo che fai baby tu sei In questo server vengono organizzati eventi e eventi giveaway Per esempio regalo Discord Nitro per due settimane A proposito di Nitro Se hai il Nitro e vorresti potenziare questo server In base al potenziamento ottieni un esclusivo badge di cristallo Un ruolo speciale e accesso nel server a nuove emoji a tema Aspen Hotel e Lua Boss Quindi entrate nel server Discord italiano di Aspen Hotel e Lua Boss Dove ve lo lascio il link in descrizione E ringrazio il server Discord Aspen Hotel e Lua Boss Per aver sponsorizzato questo video Citando il ridoppiatore Sono Cazzi Dopo la notte di luna piena andata puttane La puntata di Lua Boss Apology Tour inizia con Blitz Che entra nel giardino di Stolas Solo per scoparlo Ma Stolas lo manda a facculo E gli fa sapere che questa sera è stato invitato in una festa anti-Blitz Organizzata da un'ex fidanzata di Blitz Ovvero Verosica Che cosa è? Uno scherzo? Senti tu non ti sei mai importato di me Perché non mi hai salvato da Striker nell'episodio Western Energy Era andato in ospedale per luna Non ti credo io luna non la sento parlare dai tempi di Queen Bee E tu non ti sei mai scusato nella tua vita Anche se siamo all'inferno Dopo che Stolas lo lascia di nuovo Blitz dopo aver ascoltato la canzone Se chiedi scuse in Aspen Hotel Decide di fare una scelta Ovvero fare un tour di scuse A tutte le persone che ha ucciso Oppure ferito E ritorniamo con la sagra di Cameo Perché ritorna dopo tanto tempo Marta del primo episodio di Lua Boss Della prima stagione Un Cameo veramente inaspettato Ciao Marta E ritorna anche la signora Mayberry Anche lei del primo episodio Sono diventate amanti Perché queste due vivono assieme Vabbè scuse Marta fatte allora Poi Blitz fa le scuse agli agenti 1 e 2 E poi fa le scuse alla mascotte di Lululad Lululad è distrutto Ma ancora nessuno di l'anello dell'avidità lo hanno riparato Ecco a te la scusa Fa scuse anche con i cherubini E io ho un dubbio Blitz sapeva che i cherubini nell'altro episodio lo stavano per uccidere Dopo aver fatto scusa a tutti quanti Blitz è pronto per entrare di nascosto nella festa anti-Blitz Una festa che si trova nel mondo umano E nella festa come sappiamo c'è anche Stolas E Stolas incontra per la prima volta Ma in realtà si sono incontrati nell'Ozzi Stai zitto Quindi vuoi tagliare il cazzo di Blitz? No grazie A proposito di Blitz Arriva anche Blitz nella festa E si nasconde E diventa un uomo incappucciato Facendo tributo al suo protagonista preferito Dei videogiochi Ovvero Ezio Gli Assassin's Creed Va nel giardino di casa E scopre che Verosica sta organizzando un concetto contro Blitz Dove la persona che deve cantare è Stolas Ma in realtà non so cantare Ma stai zitto che sai cantare benissimo Posso cantare in italiano con la voce di Adrian Oppure di Ugi di The Boys? No Cantare in inglese con la tua voce originale E ciao 30 secondi di Vortex Il concerto inizia E Stolas imbarazzato riesce a cantare alla perfezione Dicendo che Blitz è solo un figlio di puttana senza cuore E mamma mia queste scene musical sono veramente bellissime Blitz vede il concerto E piange E poi poco dopo il concerto segue Stolas E addio 30 secondi di Vortex Ehi Stolas Oddio che cazzo ci hai fatto qui? La domanda è come mai nessuno mi riconosce se sono entrato senza cappuccio? Beh perché questi stronzi sono tutti ubriachi Sono anche ciechi Non ti ho mai visto bere tanti alcolici Potresti fare il record di Ask Io bevo quel cazzo che voglio Sono il principe degli Askosha Sono il principe Io sono il principe Io sono un surgo Io sono un gu Ho capito Blitz chiede scusa a Stolas per essere stato un cazzone Stolas spiega che non vuole essere da solo Vuole che qualcuno si preoccupa di lui Lui vuole essere sentito amato e abbracciato Blitz cerca di confortare Stolas Ma prima di farlo Stolas gli ulla in faccia E gli chiede di tornare a casa E piange Dopo aver pianto Blitz ricerca di confortare con Stolas Ma arriva un demone succube con peli nel mento E che sembra essere una versione maschile di Verosica No ragazzi è la versione maschile di Verosica No 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 È la versione maschile di Verosica Il demone succube gli chiede di ballare con Stolas Blitz in crisi esistenziale decide di lasciare Stolas E farlo ballare assieme alla versione maschile di Verosica Così loro due vanno a ballare Mentre Blitz che cosa fa? Decide di inseguire la sua ex Verosica E credo che Verosica già sapeva che Blitz era entrato Hai delle palle per venire qui E delle palle per essere il primo demone imp a fare delle scuse E guarda Blitz hai fatto delle cose orribili Dovresti avere una redenzione Potresti andare nella spinotella e andare in paradiso Ah giusto sei un fottuto imp non pecatore Ma immagina Immaginate se Blitz avesse una vita umana Come sarebbe morto E cosa avrebbe peccato Scrivete la vostra storiella nei commenti Blitz chiede scusa anche a Verosica In modo onesto Per non essersi innamorato profondamente di lei Verosica si sentì stupida Quando ha fatto l'errore della sua vita Ovvero mettersi con Blitz E la parte peggiore Dopo che lei si è lasciata con Blitz È diventata una persona cattiva Blitz si rende conto che lui è un coglione E Verosica ha ragione Lui non vuole essere una cattiva persona Vedremo nei prossimi episodi Blitz Verosica e Blitz vedono storia a sbacciare la Verosica maschile Io spero che nei prossimi episodi non facciano sesso Ma lui è un succo Quindi c'è il 100% di possibilità di fare sesso Blitz si incazza Ma Verosica lo cerca di contenere Blitz ci riesce E Verosica gli regala una torta al cuore per mangiarla Mangia È buono Blitz se ne va dalla festa E rincontriamo Wall-E ragazzi Ragazzi sono nella festa anti Blitz Per essere il miglior cattivo di Leoboss Devo essere più forte di Roo E devo essere più forte del personaggio famiglia di Aspirotello Ovvero Dio Blitz ritorna nel suo fargone Sente nella sua radio Non radio Alastor Ma la canzone di Verosica E Blitz fa un facepalm sul volante Fine Apology Tour Quando non hai aspettative ma alla fine dell'evento ti ritrovi con un enorme sorriso sulla faccia Pensavamo che questo episodio fosse il capitolo finale della Stolitz E invece bisogna ancora aspettare Probabilmente sto arco tra Stolas e Blitz finirà secondo me in Sims Mass Quindi a Natale Nell'episodio finale spero che sarà tipo come Avengers Endgame Che tutto quanto sarà collegato Il rapporto tra Stolas e Blitz ha ancora molto diviso il fandom dalla serie Stolas e Blitz non si devono rimettere Mentre nell'altra parte Stolas sta facendo bene a lasciarsi con Blitz perché lui è un coglione Purtroppo cosa ne penso di questa relazione non ve ne posso parlare Però ne parlerò in un video a parte In un video a tema E vi farò sapere la mia opinione di questo rapporto Ora parliamo per Verosica Un ritorno che tutti se lo aspettavano Che però posso dire una cosa Le sue parole hanno ragione Tutte le sue parole che ha detto ha ragione Dato che Verosica ritornerà Penso che per come Fizzarolli avrà un suo Toonface E io lo spero tantissimo E molto belli alcuni ritorni Per esempio Marta e la signora Mayberry del primo episodio E speriamo che Blitz avrà una sua sottospecie di redenzione Quindi foto totale a questo episodio 8 su 10 Almeno posso dire una cosa Questo episodio è molto meglio di The Full Moon E adesso bisogna aspettare Ghostfuckers a ottobre Quindi non vedremo nessuna puntata di La Boss Per tutta l'estate Quindi ragazzi Questo è il riassunto di Apologi Tour Quanto cazzo ho scritto Quanto cazzo ho ditato Quanto cazzo ho parlato Mi sento mal di testa Mi sento vomitare E mi sentirò molto meglio dopo questo riassunto E per favore lasciate like Commenti per supportare questo canale Per piacere Per piacere Perché ci ho messo tutto per questo riassunto Dai Per piacere Per piacere Per piacere Raggiungiamo almeno le mille visual Quanto cazzo ho